Le immagini che ci arrivano dal Mar Adriatico, il porto canale di Cesenatico, siamo ad una quindicina di chilometri da Cesena, sta ospitando tutte le operazioni preliminari in questa località che ci porteranno alla partenza del Memorial Marco Pantani, trofeo Sidermec 2017. Come abbiamo detto siamo nel cuore della Romagna, la località di Marco Pantani, tutte le operazioni preliminari in vista di questa prova si sono svolte nei pressi del monumento dedicato al grande campione, vincitore tra l'altro del giro e del tour del 1998 e di tante manifestazioni. Il porto canale, questa eccellenza di questa località, nato nel 1500 su un progetto di Leonardo, un porto canale che inizialmente doveva raggiungere la città di Cesena, questa è la decima prova del ciclismo Cup 2017, guidata con 357 punti dall'Androni giocattoli Sidermec, davanti abbiamo visto alla Villerselle Italia. Egan Bernal, l'atleta colombiano, guida la classifica individuale con 137 punti. Immagini dall'alto che ci mostrano appunto questa località, il grattacielo che è un po' il simbolo di Acesenatico, costruito negli anni 50 e appunto eccoci con tutte le operazioni preliminari di questa gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia. 173 i corridori alla via in cabina di regia Adriano Amici e quindi l'abbiamo visto con Pino Buda, non dimentichiamo che questa corsa segna anche il trofeo Sidermec. Ragazzi dell'Androni giocattoli Sidermec, Bottecchia logicamente particolarmente motivati in questa giornata. Una giornata assolata nella mattina quando si sono svolte appunto tutte le operazioni preliminari che ci hanno portato alla via. Da percorrere un tracciato che presenta il circuito di Montevecchio nelle sue fasi centrali, un tracciato che sembra apparentemente facile e di particolare interesse diciamo apparentemente perché il circuito di Montevecchio comunque potrebbe fare la differenza. Sorridente Sonny Colbrelli, reduce dalla bella affermazione alla Coppa Bernocchi proprio di pochi giorni fa. Sonny Colbrelli in procinto di partire per i campionati del mondo che si disputeranno tra una settimana praticamente a Bergen. E' uno degli azzurri che prendono parte a questa prova, gareggia tra le file della Barain Merida. Tutti gli altri sono al via con la maglia della nazionale. Amore Vita Selle SMP alla firma del foglio di partenza, una delle tante formazioni, una delle 24 formazioni che appunto si apprestano a dar vita a questa edizione 2017 della gara dedicata appunto a Marco Pantani. Dicevamo nazionale italiana al via di questo importante appuntamento abbiamo ricordato in precedenza della presenza appunto di Sonny Colbrelli ma la nazionale italiana è al via con Daniele Bennati, Alberto Bettiolla, Diego Ulissi, Alessandro De Marchi, Salvatore Puccio ed Elia Viviani. Non sono presenti Gianni Moscon e appunto non sono presenti anche questi atleti abbiamo detto Marco e Matteo Trentin mentre Marco Canola vestirà il ruolo di riserva a Bergen così come il ruolo di riserva sarà rivestito da Villella. Operazioni preliminari che come abbiamo detto si sono svolte proprio nei pressi del monumento dedicato a Marco Pantani scomparso nel febbraio del 2004, il 14 febbraio del 2004. Bene da quell'anno Adriano Amici con il Panathlon Club Cesena presieduto da Dionigio Dionigi hanno creato una gara proprio per ricordare l'importante figura di Marco Pantani. Nella prima edizione ad imporsi fu Damiano Cunego. Damiano Cunego che è in gara appunto anche in questa edizione 2017. L'oregie organizzativa è a cura del gruppo sportivo Emilia chiamato ai suoi ultimi appuntamenti organizzativi di questo 2017. gruppo sportivo Emilia che poi si appresta a proporre nella giornata del 30 settembre l'appuntamento con il Giro dell'Emilia Granarolo che arriva alla sua centesima edizione e poi nella stessa giornata il Giro dell'Emilia Unipol Banca Internazionale Donne Elite. Giorno successivo i due appuntamenti con il Gran Premio Bruno Beghelli proprio il doppio appuntamento con la gara maschile e la gara femminile. Damiano Cunego guida la Nippo Vini e Fantini alla partenza di questa manifestazione. Diego Ulissi particolarmente legato al gruppo sportivo Emilia ed Adriano Amici. Diego Ulissi che ha vinto un'edizione del Memorial Marco Pantani. Manuel Senni gareggia sulle strade di casa. Ecco intanto Elia Viviani che sarà la nostra punta. l'oro olimpico di Rio de Janeiro nell'Omium su pista. Elia Viviani dicevamo punta della nazionale italiana in vista dei campionati del mondo. Nazionale italiana del commissario tecnico Davide Cassani che potrà contare su una personaggio importante come Daniele Bennati. Corridore di grande esperienza che si metterà a disposizione della squadra. Eccoci proprio con gli azzurri in vista della partenza ma andiamo a sentire ora con i protagonisti di questa giornata. L'anno scorso è stata sicuramente una bella giornata per me e per tutta la squadra. Soprattutto perché qua siamo in casa di Pino Buda che è il nostro sponsor. Quindi è stato ancora più bello vincere. Quest'anno speriamo di ripeterci. Sì, diciamo che sto bene, si è visto la Bernocchi. Oggi la prendo come l'ultima rifinitura per il mondiale però voglio far bene e vedremo come si svolgerà la corsa. Sì, questa è una gara che mi piace però è anche un po' impegnativa. Il livello è abbastanza alto perché comunque fra una settimana o poco più ci saranno i mondiali in Norvegia e quindi sarà una prova un po' per tutti e anche per me. Una prova anche per me. Le parole di Albanese che sarà il nostro uomo di punta per quanto riguarda invece il mondiale degli under 23. Planimetria dopo il via da Cesenatico, i corridori raggiungeranno Ponte Pietra, Gambettola per poi iniziare quel circuito appunto di Montevecchio che andranno ad affrontare per tre volte. Poi ci sarà il ritorno con Toccando Savignano, l'ingresso in Cesenatico dove tra l'altro i corridori dovranno affrontare quattro tornate di poco più di cinque chilometri. 23 gradi, come abbiamo detto una temperatura piuttosto gradevole a dispetto di quanto stava accadendo nelle ultime giornate. Dicevamo la salita di Montevecchio sarà sicuramente un punto cruciale di questa edizione del Memorial Marco Pantani, trofeo Sidermec. Di carne al fuoco ce n'è parecchia, andiamo a sentire altre interviste prima della partenza. Sì, un primo posto, un secondo posto, ormai qui è un buon rettilineo di finale per me, quindi quest'anno qui con la maglia azzurra, quindi cercheremo di fare il meglio possibile. Abbiamo una squadra forte, gran parte della squadra è pronta per Bergen, per i mondiali, quindi Bennati, Puccio, Bettiolo, Ulissi, De Marchi. Siamo qui per allenarci, per fare un ultimo test, per capire se la condizione è sempre al top come deve essere. Abbiamo una nazionale in palla, speriamo che ci resti per un'altra settimana. Sì, contento anche della convocazione, sebbene come riserva, per il mondiale di Bergen. Oggi è in tempo incerto, è parecchio nuvoloso, potrebbe esserci la pioggia e ancora una volta sarà un buon test per gli azzurri che sono qui a fare le prove per il mondiale e magari cercare anche per me e la mia squadra di cogliere il grande risultato. Sì, due anni fa ho veramente vinto una bella gara, ricordo che siamo arrivati in tre con Nibali e Visconti, insomma veramente un bellissimo ricordo. Oggi è l'ultimo test prima del mondiale e quindi insomma cercheremo di provare la gamba, è tutto, vediamo se le sensazioni sono ottime come una settimana fa. E vedremo appunto le sensazioni di Diego Ulissi e degli altri azzurri. Pochi istanti quindi alla partenza da affrontare poco meno di 190 chilometri per quanto riguarda questa prova. Tanto, tanto pubblico fino alle prime ore del mattino ad accogliere con tanto affetto quella che è una gara particolare. C'è proprio Paolo Pantani a fianco del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzole ad abbassare la bandierina a scacchi per dare il via diciamo ufficiosamente perché nelle fasi iniziali i corridori hanno affrontato l'attraversamento turistico di Cesenatico, gran parte del quale in Viale Carducci che è un po' la strada più importante, la via più importante di questa località dove tra l'altro ci sono anche tanti locali che caratterizzano un po' la movida estiva di questa località di quasi 26.000 abitanti. Dicevamo hanno attraversato Cesenatico per raggiungere poi il chilometro zero. Adriano Amici pronto e già proiettato anche alla sua centesima edizione, alla centesima edizione del suo giro dell'Emilia in programma per il 30 dia settembre. Dicevamo questa prova è la decima gara della Ciclismo Cup, intanto il bel passaggio nei pressi del porto canale di Cesenatico ed eccoci con il passaggio al chilometro zero. Via Mazzini alle ore 11.30, tutto è pronto per il via Ultimi Raguagli e da questo istante tra pochissimi secondi si inizierà a pedalare, anzi si inizia proprio in questo momento nel ricordo di Marco Pantani. 173 corridori al via, 189 chilometri e 800 metri da percorrere e l'avvio di corso è stato particolarmente veloce, un po' come spesso accade in tante corse, praticamente in quasi tutte le gare. Si parte molto molto forte, staremo a vedere se anche in questa occasione dovesse verificarsi la fuga iniziale che andrà a caratterizzare gran parte della gara. C'è quella salita di Montevecchio, 5 chilometri con una pendenza media del 6-8%, punte massime del 13-14%, 259 metri di dislivello. Dopo 42 chilometri di corsa nasce un'azione che proietta al comando Marco Zamparella dell'Amore Vita Selle SMP in compagnia di un corridore austriaco che difende i colori della Tirol, lo vediamo inquadrato con il dorsale 136 Sebastian Schoenenberger. Questi sono i due corridori che hanno caratterizzato gran parte di questa bella edizione del Memorial Marco Pantani, trofeo Sidermech. Due uomini al comando che hanno trovato immediatamente l'accordo, Tirol Cycling Team che tra l'altro è stata protagonista in questa parte di stagione. Non dimentichiamo il finale mozzafiato della Coppa Bernocchi con Gamper che è stato raggiunto a circa 300 metri dalla conclusione dopo essere stato praticamente in fuga tutta la giornata. Quindi ancora un atleta di questa formazione austriaca, la Tirol Cycling Team, formazione che ha sede a Innsbruck, la località che il prossimo anno ospiterà i campionati del mondo, dicevamo ancora un atleta di questa rappresentativa lì davanti. Ma ci sembra particolarmente in palla Marco Zamparella, un atleta che ha avuto una carriera anche abbastanza travagliata, un brutto incidente l'ha costretto a un lunghissimo stop, un incidente che l'aveva visto scontrarsi in allenamento con un capriolo qualche anno fa e è stato costretto ad uno stop, tante vicissitudini, non è poi più riuscito a trovare il colpo di pedale giusto fino appunto allo scorso anno quando ad inizio stagione si è imposto in due tappe della Vuelta al Tacira che è una delle gare a tappe che si disputano ad inizio di stagione in Venezuela. La sera è classificato anche al terzo posto in un'edizione dell'Agostoni nel 2013, piazzamenti anche proprio al Memorial Marco Pantani. Zamparella rimane solo al comando, siamo entrati nella seconda metà gara di questa edizione del Memorial Marco Pantani, il trofeo Sidermec. Dicevamo decima prova della Ciclismo Cup 2017, eccoci intanto con un passaggio al Gran Premio della Montagna perfettamente allestito dal gruppo sportivo Emilia. Ciclismo Cup 2017 che si è aperta con una grande novità, innanzitutto queste trasmissioni che vengono proposte grazie all'accordo tra Lega Ciclismo Professionistico e la PMG Sport, alcune delle quali trasmesse anche in diretta. Intanto con la nostra sintesi passiamo agli ultimi 25 chilometri di gara quando al comando si è formato un gruppetto di quattro unità. Egan Bernale, Mattia Cattaneo, due corridori dell'Androni Giocattoli Sidermec e Diego Ulissi della Nazionale Italiana, questi tre corridori sono riusciti a riportarsi su Zamparella. Questa quindi la situazione, hanno guadagnato un minuto e mezzo, un minuto e 35 secondi nei confronti del resto del gruppo. Stavamo parlando della Ciclismo Cup 2017 con appunto la novità di queste trasmissioni. Prima prova che è stato il Gran Premio Costa degli Etruschi, vinto proprio da Diego Ulissi, che era reduce da una buona partecipazione al Tour Down Under. Diego Ulissi che aveva aperto quindi nel migliore dei modi la propria stagione, vincendo proprio in casa. La gara si disputa ad onoratico. Quindi è proseguita la Ciclismo Cup. Intanto vediamo il gruppo degli inseguitori in queste fasi di corsa. guidato, l'abbiamo visto, da Andrea Toniatti, che viene rilevato in questo momento da Antonio Molina della Caja Rural. Dicevamo Ciclismo Cup 2017 che è poi proseguita con il Gran Premio Industria e con il trofeo La Igueglia, chiedo scusa, vinto da Fabio Felline in maglia della Nazionale Italiana. Intanto un minuto e 38 secondi il vantaggio dei quattro uomini al comando sul resto del gruppo. Poi il Gran Premio Industria è artigianato con la vittoria di Adam Yates. La settimana internazionale di Coppie Bartali con il successo di Lilian Kalmejan, che è stato un po' il dominatore di questa prima parte di stagione. Danilo Celano si è imposto con una grande prova di forza sul traguardo del Giro dell'Appennino. E poi Geraint Thomas, già campione olimpico su pista e pluricampione del mondo, ha conquistato il successo al Tour of the Alps. E poi è stato il turno di Shilov, l'atleta russo, ad imporsi sul traguardo del Marteotti. Dopo una pausa estiva, pausa estiva per quanto riguarda la ciclismo Cup, perché comunque nel frattempo si è gareggiato un po' in tutto il mondo, le gare in Italia sono ritornate proprio questa settimana, con la Coppa Agostoni vinta da Michael Albasini e la Coppa Bernocchi di due giorni fa con il successo di Sonny Colbrelli. Intanto con gli atleti al comando stiamo entrando nel circuito, siamo nel circuito finale, circuito finale che di fatto presenta quattro curve, interamente pianeggiante, 5 chilometri e 200 metri. Un bel gruppetto, un gruppetto del quale fa parte Diego Ulissi, che è indubbiamente il corridore più veloce di questo gruppetto. I corridori dell'Androni Giocattoli Sidermec hanno come unico obiettivo, come obiettivo principale, quello di guadagnare i più punti possibili per quanto riguarda la classifica della ciclismo Cup. Ricordiamo che la squadra vincitrice della ciclismo Cup si guadagnerà poi il diritto a partecipare al Giro d'Italia della stagione successiva e poi Marco Zamparella, che comunque ha speso tantissimo e che si trova al comando appunto dal chilometro 42. Lungo rettilineo che porta i corridori verso il traguardo, la celebre colonia sulla destra negli ultimi 300 metri di agara. Cattaneo che sta imponendo un grande ritmo appunto nel quartetto di testa con Egan Bernal, questo corridore colombiano che si è sempre messo in evidenza nel corso di questa stagione in quanto a combattività e non solo ha vinto il Tour dell'Avenir, che è una manifestazione importantissima per quanto riguarda il movimento degli Under 23. Inizia il primo dei quattro giri conclusivi, tantissimo pubblico a bordo strada per appunto questa prova. I corridori percorreranno praticamente in quasi tutta la sua lunghezza a Viale Carducci, intanto eccoci con il resto del gruppo guidato da Damiano Cunego, veramente eccezionale in questo momento. L'abbiamo visto per tanti chilometri il vincitore della prima edizione del Memorial Marco Pantani guidare appunto il drappello. Il gruppo, quello che rimane del gruppo inseguitore, perché parliamo di un gruppetto forte di una settantina di unità. Brice Feilloux, eccolo, il francese che nel corso della propria carriera ha vinto anche una tappa al Tour de France, difende i colori della Fortunéo. Fortunéo che ha tra le proprie fila un corridore particolarmente veloce come Hardy, che ricordiamo secondo in questa stagione al Trofeo Leiguelli e poi via via tutti gli altri. Si sta pedalando veramente ad alta andatura, il vantaggio dei quattro di testa in queste fasi di corsa è di circa un minuto e 40 secondi. Vediamo proprio lo sforzo che viene profuso dagli atleti nelle prime posizioni del gruppo per cercare di ricucire sul quartetto di testa. Quartetto di testa che appunto vede in netta superiorità numerica i portacolori dell'Androni Giocattoli Sidramek. Come abbiamo detto, la formazione che con Egan Bernal guida anche la classifica individuale. Eccoci proprio al momento del passaggio del gruppo. 1.35, 1 minuto 35 secondi il ritardo del gruppo ad una ventina di chilometri dalla conclusione. Tornando quindi a quella che è la Ciclismo Cup 2017, i prossimi appuntamenti saranno il Giro di Toscana Memorial Martini in programma il 26 e 27 settembre, poi la Coppa Sabatini di Peccioli del giorno successivo appuntamenti che saranno proposti in differita e poi il gran finale di stagione con Giro delle Miglia il 30 settembre, Gran Premio Bruno Beghelli primo ottobre e Trevalli Varesine del 3 di ottobre che saranno proposti in diretta. La Trevalli Varesine di fatto va a chiudere anche quello che è il trittico della regione Lombardia che si era aperto con la Coppa Agostoni vinta dal Basini e con la Bernocchi che aveva registrato il successo di Sonny Colbrelli. Questo quindi per quanto riguarda la Ciclismo Cup e i prossimi appuntamenti che saranno proposti con sintesi e con dirette televisive. Un minuto 35 secondi, situazione che rimane sempre pressoché invariata per quanto riguarda il ritardo del gruppo, intanto Cattaneo. Cattaneo veramente eccezionale, l'atleta Bergamasqua a sacrificarsi per la propria squadra l'Androni Giocattoli Sidermec che oggi ha diversi motivi per far bene anzi ne ha una serie molto molto lunga. Abbiamo parlato della Ciclismo Cup quanto è importante ottenere i più punti possibili per questa squadra. Sigareggia in casa dello sponsor Pino Buda della Sidermec che è un grande appassionato di sport è un grande appassionato di ciclismo e con grande passione sostiene questa formazione e non solo. Domani da queste parti c'è in programma anche la 2 per bene, una manifestazione benefica quindi ciclismo a 360 gradi in questo fine settimana. E poi fa parte dell'Androni Giocattoli Sidermec l'ultimo vincitore del Memorial Marco Pantani. Ci riferiamo a Francesco Gavazzi che appunto nella passata stagione si è imposto allo sprint. Ottimo l'accordo tra i corridori al comando mentre intanto è ancora Andrea Tognatti che è uno dei pluri vincitori di questo 2017 a livello degli Under 23 a fare l'andatura in testa. Difende i colori, è in gara con i colori della Bahrain Merida un corridore che appunto ha le sue prime apparizioni nel mondo del professionismo e già aveva avuto modo di mettersi in evidenza nelle giornate precedenti in questa settimana durante il trittico della regione Lombardia. Il gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici quindi sempre molto molto impegnato a proporre grandi appuntamenti logicamente l'appuntamento clou di questa stagione è quello del 30 settembre il Giro dell'Emilia raggiunge l'importante traguardo delle 100 edizioni Giro dell'Emilia che è nato, che si è disputato nella sua prima edizione nel 1909 proprio come il Giro d'Italia. Gavazzi, Viviane, Colbrelli 5 stelle i corridori da tenere particolarmente d'occhio per quanto riguarda questa edizione della Memorial Marco Pantani vediamo un Diego Ulissi abbastanza tranquillo in questi frangenti di corsa a dire il vero Ulissi e Zamparella rimangono passivi in questo momento Ulissi è sicuramente il più veloce in questo gruppetto Zamparella logicamente ha speso tantissimo i corridori dell'Androni Giocattoli Sidermec devono fare il possibile per cercare di conquistare punti per la Ciclismo Cup e logicamente sono un po' costretti tra virgolette a sobbarcarsi tutto il peso della conduzione di questa azione 15 chilometri al termine particolarmente affaticato Marco Zamparella come abbiamo detto la sua è stata una stagione particolarmente intensa è riuscito a sbloccarsi dopo diversi anni di professionismo solamente lo scorso anno intanto siamo in vista di un nuovo passaggio e c'è ancora una condotta di gara veramente impeccabile veramente lodevole da parte di Mattia Cattaneo non smetteremo mai di sottolineare la grande grinta il grande carattere di questo corridore che appunto quest'anno è ritornato alla vittoria di questo corridore che è animato da un grande spirito di sacrificio si è messo a totale disposizione di tutti i compagni di squadra e lo sta facendo anche oggi per una causa comune eccoci intanto con l'ingresso sul lunghissimo rettilineo d'arrivo per quanto riguarda il gruppo gruppo che è guidato ora da Giulio Ciccone l'atleta abruzzese che ha conquistato anche una bella vittoria di tappo al Giro d'Italia a Sestola Giulio Ciccone che difende i colori della Bardiani CSF che è la squadra che può contare sul velocista Vincenzo Albanese l'abbiamo sentito pochi istanti prima della partenza Albanese che voleva testare la propria gamba in vista del campionato del mondo per il quale difenderà i colori della nazionale Under 23 sarà un po' l'uomo di punta e proprio per questo magari gli uomini della Bardiani CSF proprio per aiutare per portare Albanese nelle migliori condizioni lo ricordiamo Albanese ha vinto un trofeo Matteotti e gareggerà al mondiale per gli Under 23 dicevamo lo vogliono portare nelle migliori posizioni in vista di questo finale fa parte di questa squadra anche Paolo Simeon altro atleta particolarmente veloce e ci fa piacere e ci fa tanto piacere vedere lì davanti Damiano Cunego Damiano Cunego che si sta sacrificando per la propria squadra Marco Canola sta attraversando un buon periodo di forma sarà riserva ai campionati del mondo comunque una bellissima stagione quella del corridore Veneto che in carriera ha vinto anche una tappa al giro 1.39 attenzione perché potrebbe essere preoccupante la situazione in questo momento per il resto del gruppo il gruppo non sta controllando non sta accadendo quello che magari potrebbe accadere in altre occasioni ossia con il gruppo che potrebbe tenere a bagnomaria tra virgolette gli uomini al comando no il gruppo in questo momento sta andando veramente forte e non riesce a guadagnare terreno nei confronti del quartetto di testa eccoci con Spezialetti alla guida dell'ammiraglia dell'Androni giocattoli Siderme che in queste fasi di gara che va ad incitare i propri atleti di fatto abbiamo visto alternarsi alla guida di questo gruppetto solamente Bernal e Cattaneo rimangono assolutamente passivi Ulissi e Zamparella in queste fasi di corso Ulissi come abbiamo detto il più veloce in questo quartetto siamo ormai ad una dozzina di chilometri dal termine Ulissi che è in gara con i colori della nazionale italiana qualora ci fosse il ricongiungimento con il resto del gruppo la nazionale italiana può contare su uomini particolarmente veloci uno su tutti Viviani che abbiamo visto in precedenza nelle prime posizioni del gruppo gruppetto degli inseguitori che continua a pedalare a circa un minuto e 30 secondi di ritardo si avvicina l'appuntamento con il campionato del mondo di Bergen fra una settimana anzi fra una settimana e un giorno conosceremo il nome del nuovo campione del mondo intanto due chilometri al passaggio nazionale italiana che come abbiamo detto avrà più di una punta Elia Viviani Sonni Colbrelli e poi è una nazionale che vanta al proprio interno valori veramente altissimi abbiamo ricordato della presenza di Matteo Trentin che ha vissuto quella che indubbiamente è la sua stagione migliore da quando gareggia tra i professionisti e poi altri corridori che stanno attraversando un ottimo periodo di forma uno di questi è Diego Ulissi ha vinto il Gran Premio di Montreal una settimana fa Diego Ulissi che è in uno stato di forma veramente eccezionale Daniele Bennati non ha certo bisogno di presentazione uno dei pochi corridori che nel corso della propria carriera è stato in grado di vincere tappe nei tre grandi giri al giro al tour e alla vuelta e poi altri corridori che saranno fondamentali come Alessandro De Marchi come Salvatore Puccio insomma una formazione d'Alberto Bettiolo una formazione sicuramente sicuramente interessante e sicuramente combattiva e sicuramente all'altezza di un campionato del mondo rivali principali logicamente e non potrebbe essere diversamente Peter Sagan sta crescendo di forma va ad inserirsi nella top list dei favoriti ci sono altri corridori che potrebbero essere che potrebbero impensierire Sagan Boissonagen Christophe Gaviria che è ritornato al successo con uno stato di forma veramente eccezionale poi ci sarà particolare attesa anche per vedere come si comporterà il gruppo dei Belgi con Van Avermaet con Gilbert attenzione a Vellens attenzione perché Vellens sta attraversando veramente uno stato di grazia in questo periodo e poi un altro gruppo di corridori pensiamo ai Rui Costa pensiamo ai Chiatoschi pensiamo ad altri corridori che potrebbero andare ad impensierire Peter Sagan logicamente anche i nostri azzurri una decina di chilometri intanto al termine del Memorial Marco Pantani e ancora questi due corridori dell'Androni giocato di Sidermec a fare il diavolo a quattro Cattaneo e Bernal veramente tanto tanto cuore in queste fasi di corsa intanto si scatta si scatta in testa al gruppo ed è appunto Toni Atti che va a tentare la soluzione di forza va a tentare di uscire dal gruppo per riportarsi sulla testa della gara i giovani si sono messi in grande evidenza in questa parte di stagione pensiamo anche alla gara dell'altro giorno alla Coppa Bernocchi quando sono rimasti al comando alcuni atleti tra i quali il più vecchio si viene da sorridere dicendolo era Filippo Ganna che ha 21 anni quindi giovani che hanno voglia di farsi vedere hanno voglia di mettersi in evidenza un minuto e 25 secondi intanto un minuto 25 secondi l'argentino sepulveda della Fortuneo quindi arriva ancora Ciccone c'è ancora Cunego si stanno dannando l'anima ora veramente in testa il gruppo i ragazzi della nazionale italiana vediamo De Marchi voltarsi per controllare la posizione di Elia Viviani siamo a appunto 9 chilometri alla conclusione per i corridori al comando c'è ancora il forcing di Damiano Cunego in testa il gruppo ma attenzione perché appunto il vantaggio in questo momento non tende a diminuire il vantaggio dei quattro uomini di testa rimane sempre intorno al minuto e 20 minuto e 30 secondi un minuto un minuto e 23 in questo istante al momento del passaggio Zamparella un rapporto lunghissimo a chiudere questo gruppetto al comando dal chilometro 42 veramente lodevole la sua prova in questa giornata Diego Lissi Diego Lissi anche un particolare feeling con le gare organizzate dal gruppo sportivo Emilia abbiamo ricordato ha vinto una coppia Bartali gara nella quale ha conquistato anche diversi successi di tappa ha vinto il Giro delle Emilia ha vinto il Gran Premio Costa degli Etruschi ha vinto anche il Memorial Marco Pantani insomma Diego Lissi che quando in cabina di regia c'è Adriano Amici si trova particolarmente bene staremo a vedere cosa accadrà oggi per il momento la certezza è che in questo momento il gruppo non riesce il gruppo non riesce a guadagnare terreno stiamo a vedere sempre con Tognatti su Cuneco abbiamo visto anche Santa Romita nelle prime posizioni del gruppo tanto Mattia Cattaneo alla ruota di Egan Bernal abbiamo detto Bernal ha vinto il Tour dell'Avenir nel corso di questa stagione ha vinto la classifica giovani alla Coppie Bartle ha vinto la classifica giovani praticamente in tutte le gare a tappe alle quali ha partecipato in questo 2017 per lui si annuncia un futuro al Team Sky dalla prossima stagione quindi Team Sky che è un po' alla ricerca di quelli che potrebbero essere gli eredi di un progetto molto molto ampio gli eredi di Froome gli eredi di Wiggins gli eredi di questi grandi atleti per dare continuità a questo ampio progetto del Team Sky staremo a vedere se appunto Egan Bernal andrà a ricoprire quel ruolo di primaria importanza all'interno della grande corazzata britannica immagini che ci mostrano o in questo istante Alessandro Bisolti come abbiamo detto Canola l'uomo di punta di questa formazione della Nippo Vini Fantini tra l'altro abbiamo già avuto modo di ricordare anche nelle giornate precedenti che è ormai vicina alla fusione tra la Nippo Vini Fantini e la GM Europa Vini nel prossimo anno con un progetto molto molto ampio a fianco della formazione professionistica nascerà anche una formazione riservata alla categoria degli Under 23 e una squadra per Juniors quindi un progetto molto interessante e sicuramente lodevole per quanto riguarda questa fusione un progetto che va anche a valorizzare un territorio quello dell'Abruzzo territorio dell'Abruzzo che ha dato tanto e che continua a dare tanto al mondo del ciclismo quindi c'è area di novità almeno per quanto riguarda questa bella iniziativa di questi due team del team di Patron Marchesani ed il team di Francesco Pelosi per quanto riguarda il 2018 6 chilometri 300 metri alla conclusione ed è ancora Cattaneo con Bernal a fare l'andatura un albo d'oro particolarmente bello particolarmente ricco quello appunto del Memorial Marco Pantani che si è aperto proprio nel 2004 pochi mesi dopo la scomparsa del grande campione di Cesenatico come abbiamo detto vincitore del giro e del tour del 98 corridore che ha animato le scene del ciclismo internazionale che tanto ha fatto emozionare gli appassionati di ciclismo e non solo Damiano Cunego dicevamo ha vinto la prima edizione poi c'è stato il successo di Gilberto Simoni di Daniele Bennati di Franco Pelizzotti Enrico Rossi corridore Cesenate si era imposto nel 2008 e poi sono arrivati i successi allo sprint di Roberto Ferrari Viviani Fabio Taborre Fabio Felline Modolo Colbrelli Ulissi e appunto nella passata stagione di Francesco Gavazzi tanti dei corridori che si sono imposti nella storia del Memorial Marco Pantani sono al via anche quest'anno ovvero Cunego Bennati Viviani Colbrelli Ulissi e appunto Francesco Gavazzi sta iniziando l'ultimo giro parlottano in queste fasi di corsa Zamparella e Ulissi intanto ancora Cattaneo e Bernal a fare l'andatura suona la campana questo significa che manca un giro 5 km al termine di questo appuntamento che ricordiamo è organizzato dal gruppo sportivo Emilia la ciclismo cup 2017 si sta avviando verso il gran finale stiamo vivendo la decima prova la decima prova appunto della ciclismo cup 2017 una classifica che è saldamente guidata dalla Androni Giocattoli Siverne abbiamo al comando quindi un corridore che arriva dalla provincia di Bergamo Mattia Cattaneo il colombiano Egan Bernale poi due toscani Zamparella di Pisa è nato a San Mignato ma è di Montopoli Val d'Arma appunto in provincia di Pisa e il Livornese Diego Uliss insomma due toscani corregionali ma ci viene da sorridere non è mai non c'è mai stato non ci sono mai stati buoni rapporti tra Pisani e Livornesi stiamo parlando comunque di ciclismo stiamo parlando comunque di sport eccoci con il passaggio del gruppo e un minuto e 14 secondi un minuto 14 secondi e quindi a questo punto per il gruppo diventa quasi impossibile andare a chiudere su questi quattro corridori che affrontano la prima delle quattro curve previste in questo tracciato ecco subito dopo la seconda ora andranno a percorrere questo lunghissimo rettilineo con un minuto e 14 secondi di vantaggio nei confronti del resto del gruppo ancora i due corridori dell'Androni giocattoli Sidermek a fare l'andatura a fare l'andatura lì davanti siamo ormai a circa 3 chilometri e mezzo dalla conclusione Ulissi tranquillissimo Ulissi che sta attraversando un grande periodo di forma Ulissi che è uno degli attesi protagonisti del campionato del mondo in programma a Bergen come abbiamo detto dovrebbe essere lui l'atleta più veloce anzi indubbiamente in questo gruppetto ora arrivano anche i portacolori della Cycling Academy la formazione di Israele che va a dare un ulteriore impulso in testa al gruppo la formazione della quale fa parte Guillaume Boaven l'atleta canadese che si è classificato al secondo posto nella Coppa Bernocchi alle spalle di Sonny Colbrelli intanto la testa della corsa a meno di tre chilometri dalla conclusione eccoci quindi con queste fasi di corsa il gruppo non riesce a guadagnare terreno il gruppo sta si rosicchiando qualche secondo intanto vediamo Sokolov anche della Locosphinx nelle prime posizioni del gruppo alla sua ruota abbiamo visto anche Sergei Shilov e ci viene riproposta questa curva nella quale è stato particolarmente svelto e attento l'atleta dell'Israel Cycling Academy eccoci intanto con gli ultimi fasi di corsa per i quattro ormai è fatta siamo a due chilometri dalla conclusione ecco il passaggio proprio all'arco con le due bandierine rosse con i due triangoli rossi due chilometri alla termine Cattaneo veramente eccezionale in questa giornata un minuto e dieci un minuto e dieci è fatta per i quattro corridori quindi possiamo tranquillamente dire che sarà uno sprint a ranghi ristretti a decidere questa edizione del Memorial Marco Pantani tutti si aspettavano una conclusione a ranghi compatti tutti si aspettavano una volata di gruppo ma così non è stato sull'azione nata appunto da Schoenenberger e Ulissi in questa prova chiedo scusa da Schoenenberger e Zamparella dopo 42 chilometri sono stati bravi a riportarsi sul tandem di testa gli altri tre atleti intanto attenzione perché Cattaneo si è fatto da parte ora è rimasto Bernal a fare l'andatura Cattaneo che ha tentato di proiettare al comando Egan Bernal ancora quattro uomini al comando Elia Viviani rimane alla ruota di Daniele Bennati che a sua volta è a ruota di Bettiol alle spalle di Puccio e di De Marchi li vedremo tra una settimana protagonista del campionato del mondo e siamo ora all'ultimo chilometro ora c'è Egan Bernal che sembra prendere l'iniziativa quindi Diego Ulissi in seconda posizione Zamparella della maglia dell'amore Vita Selle SMP in terza a chiudere Mattia Cattaneo che è stato sicuramente il più combattivo di giornata Bernal e attenzione perché se ora il gruppo avevamo dato per scontata la volata a ranghi ristretti non devono aspettare più di tanto perché il gruppo è ad una cinquantina di secondi ma ci pensa Cattaneo ci pensa Cattaneo ora a rilanciare l'andatura Ulissi va a chiudere come abbiamo detto un finale particolarmente incerto Ulissi ha chiuso benissimo controlla Diego Ulissi due vittorie nel corso di questa stagione Zamparella nella morsa dei due atleti dell'Androni giocato di Siderme il gruppo intanto viene segnalato a poco meno di un minuto ormai siamo negli ultimi cinquecentometri ci prova ancora Cattaneo che è condotta di gara quella di Cattaneo nulla da fare e allora ormai siamo a poco più di trecentometri dalla conclusione quattro uomini al comando vediamo chi prenderà l'iniziativa Ulissi parte Zamparella parte Zamparella Ulissi rimane affiancato al Pisano ma Zamparella è più veloce esce Ulissi esce Diego Ulissi ormai nelle fasi conclusive Zamparella non lascia spazio Zamparella non lascia spazio ed è Zamparella su Ulissi Bernale Cattaneo che affermazione che vittoria per Marco Zamparella al comando per 140 150 chilometri ha avuto ancora la forza di sprintare e di lasciarsi alle spalle un Diego Ulissi che sta attraversando veramente un periodo di forma eccezionale eccoci intanto con la volata del gruppo si va a sprintare per la quinta posizione vediamo Bennati in testa esce Colbrelli c'è anche Gavazzi Viviani col casco azzurro Colbrelli una volata di grande potenza eccoci con Colbrelli che va a conquistare la quinta posizione su Viviani Gavazzi e Boaven questo quindi il risultato della volata del gruppo ma c'è stato il bellissimo sprint di Marco Zamparella va ad un corridore toscano un corridore che arriva appunto dalla provincia di Pisa che si lascia alle spalle Diego Ulissi questa edizione 2017 del Memorial Marco Pantani Tropeo Sidermek una vittoria cercata una vittoria fortemente voluta quella di Zamparella che nel corso della propria carriera lo ricordiamo aveva conquistato due affermazioni questa indubbiamente la sua vittoria più importante dopo quelle due tappe alla volta taci racconquistate nel 2016 Zamparella vince il Memorial Marco Pantani davanti a Dulissi Bernal Cattaneo Colbrelli Viviani Gavazzi Boaven Ballerini e Tivani gruppo che è arrivato a 44 secondi di ritardo quindi Zamparella il 14esimo vincitore di questa gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia in quello che è stato un finale ricco di emozioni in quello che è stato un finale anche imprevedibile con il gruppo che non è riuscito ad andare a chiudere proprio sui quattro uomini al comando ma prima delle premiazioni andiamo a sentire le interviste la vittoria è stata veramente una grande osa per me perché battere Diego lo conosco da quando ero bambino un fenomeno toscano come me quasi mi dispiaceva passarlo perché l'ho sempre visto nonostante sono più grande di lui con un grandissimo corridore e che dire al di là della vittoria penso di aver fatto un bel numero di corsa e chi ha visto oggi la gara e chi la vedrà magari indifferita lo capirà meglio di me come è andata ma la vittoria penso che è la prima no la terza dei miei professionisti considerando due di categorie minori al Venezuela comunque le vittorie le fanno in tanti e quest'anno è stato veramente un anno sfortunato perché ho avuto una lussazione neanche due mesi fa ho recuperato a tutta per essere pronto all'aiuto aspettavamo un invito al Canada che non abbiamo avuto alla vigilia erano tutti percorsi adatti a me ho tenuto duro allenandomi fino al tritico che avevo già fatto terzo all'agosto del 2013 e insomma mi hanno tamponato in discesa l'ultima volta eravamo già rimasti una ventina davanti mi sono dovuto fermare perché mi si è rotto il cambio oggi ho corso un po' da pazzo però ripeto non è la vittoria per me per me una cosa che mi fa comunque commuovere che la sanno soltanto persone a me veramente vicino che fino a domenica ero a fare il pizzaiolo dove abito io questo per me non è il mio lavoro questa per me è una passione perché queste squadre durano a sopravvivere il mio direttore Frassi lo sa la mia ragazza anche i miei genitori fino al giorno prima di venire qua ero a lavorare spero che le persone che mi stanno vicino veramente mi danno una mano e soprattutto chi conta più di loro i manager di altre squadre i ct Davide Cassani con il quale un bellissimo rapporto mi sono sentito anche due giorni fa spero veramente mi danno una mano perché penso di meritarmela se sono arrivato fino a 29 anni ancora una piccola squadra è perché sono stato quasi tre anni fermo per un brutto incidente comunque non voglio fare pena a nessuno spero veramente che chi capisce un attimo di ciclismo mi dia una possibilità è una storia particolare una storia anche abbastanza curiosa quella appunto di Zamparella che sale sul gradino più alto del podio in questa edizione del Memorial Marco Pantani Trofeo Sidermech sul podio con lui Diego Ulissi buoni segnali comunque per quanto riguarda il portacolori della White Team Emirates che oggi è gareggiato con i colori della Nazionale Italiana e ancora un podio ci viene da dire l'ennesimo di questa stagione per Egan Bernal che si conferma comunque un grande grandissimo talento Pino Buda premiare Marco Zamparella al termine di questa prova come abbiamo detto organizzata dal gruppo sportivo Emilia è anche una delle prove valide per la challenge Emilia Romagna Beghelli la speciale classifica che tiene conto di tutte le gare organizzate in Emilia proprio dal lente organizzatore presieduto da Adriano Amici ma soprattutto si tratta di una prova della ciclismo Cup 2017 la decima di questa stagione ora lo spazio la strada avrà si tingerà di iride inizieranno i campionati del mondo è un campionato del mondo al quale l'Italia si appresta con tante speranze ma soprattutto con tante certezze la certezza quella di avere una grande formazione una formazione che appunto in questa settimana ha avuto le ultime occasioni di rifenire alcuni meccanismi una formazione alla quale anche gli avversari guarderanno con un occhio di particolare attenzione un occhio di particolare attenzione noi lo dedichiamo anche a questo podio un podio che manda così in archivio il memorial Marco Pantani gli highlights di questa giornata 173 corridori al via dal monumento di Marco Pantani e poi la salita di Montevecchio dopo 42 km se ne vanno Zamparella Schoenberger Zamparella dell'amore vita Selle SMP Schoenberger che difende i colori della Tirola Cycling Team Zamparella particolarmente attivo riesce a rimanere solo al comando lungo la salita di Montevecchio 5 km per quanto riguarda questa sperità che è un po' il simbolo di questa corsa pendenza media del 6-8% punte massime del 13-14% Zamparella atleta pisano da San Mignato che appunto ha fatto la differenza lungo il circuito circuito che i corridori hanno affrontato per tre volte queste erano le strade d'allenamento del pirata Marco Pantani al quale dedicata questa gara la cui prima edizione si è disputata nel 2004 pochi mesi dopo la scomparsa appunto del grande Marco nelle fasi conclusive durante il tratto di ritorno verso Cesenatico dal gruppo sono usciti Mattia Cattaneo e Gambernale Diego Ulissi che in breve hanno raggiunto Marco Zamparella un minuto 35 secondi un minuto e 40 il loro vantaggio gruppo con i corridori della Nazionale che non è riuscito a chiudere lungo il circuito finale e poi la volata la volata che ha visto Zamparella partire molto molto lungo Ulissi non è riuscito a rinvenire successo per Zamparella su Ulissi Bernal e Cattaneo per quanto riguarda appunto il Memorial Marco Pantani quindi un successo toscano Zamparella scrive il proprio nome nell'albo d'oro dopo quello di Francesco Gavazzi Zamparella che fino ad ora aveva conquistato due affermazioni tra i professionisti nel 2016 questo è stato l'ultimo test è stato l'ultimo test in vista del campionato del mondo in programma domenica prossima a Bergen come abbiamo detto lo spazio ora andrà ai mondiali e ringraziamo tutti per averci seguito con questa prova della Ciclismo Cup dopo il campionato del mondo la Ciclismo Cup ripartirà con il Giro di Toscana Memorial Alfredo Martini il 26 e 27 settembre che vi proporremo ancora in differita buon proseguimento di serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti